Salve a tutti, questo video è la continuazione di quello precedente, in cui spiegavo qual è stata la mia esperienza con ETDG. In questo video invece vorrei parlare di come mi confronto con loro. Prima di iniziare a parlare di questo argomento, vorrei invitarvi a lasciare un like, ad iscrivervi e a vedere gli altri video. Ci sono già molti video su YouTube che riguardano i testimoni di Geova. Molto utili sono quelli di Giuseppe Longo o di Soccari Ared. Il primo si concentra sugli aspetti dottrinali, il secondo invece si occupa più che altro della vita nella congregazione, e le assurde regole non siano fondate sulla Bibbia. Detto ciò, vorrei sottolineare qualora non fosse chiaro che questo video non riguarda chi ha ragione o torto, se gli atei, o i credenti, o i cattolici, o gli ortodossi, ecc. La cosa che mi interessa è come mostrare ai TDG che la loro interpretazione della Bibbia è sbagliata, e non tanto per motivi legati al credo religioso. Come ho detto prima, ma perché, come molti di voi già sapranno, quella è una setta religiosa pericolosa, per varie ragioni, ma per questo ci sono altri video. La questione non è semplice, per questo fino ad ora non ho mai fatto questo video, ci ho pensato a lungo. Devo precisare che un TDG è obbligato a credere a tutto ciò che il corpo direttivo dice, altrimenti viene disassociato, e di conseguenza subisce l'ostracismo da parte degli altri membri di quella setta, cioè non possono più rivolgergli la parola. Per questo per aiutare queste persone dovrebbe essere sufficiente convincere che almeno una delle cose in cui credono sia sbagliata affinché siano spinti a lasciare l'organizzazione. Non interessa se si tratta di una questione strettamente dottrinale, come la Trinità, o il Paradiso se si tratta di un aspetto organizzativo, come la sottomissione della donna all'uomo all'interno dell'organizzazione o una questione etica come le donazioni di sangue. Passiamo al dunque se guardate i video di Giuseppe Longo vedrete che lui ha tante pubblicazioni di quell'organizzazione, e può fare il confronto con varie Bibbie, compresa l'interlineare dal greco all'inglese. Per mostrare gli errori della traduzione dei TDG, ma questo ovviamente è impossibile dal punto di vista pratico quando si incontra un TDG, per questo io prendo sempre nota di tutto quello che può essermi utile dai video di Giuseppe Longo e li ho messi in pratica dialogando con alcuni testimoni di Geova. Ovviamente non è servito a nulla, perché secondo loro la traduzione del Nuovo Mondo fa bene a sostituire Dio Cristo Signore con Geova, perché sono fermamente convinti che siano stati gli apostati a eliminare il nome Geova dalla Bibbia. Ed è anche inutile mostrare a loro la differenza tra la loro Bibbia con tutte le altre quando non riguarda il nome di Geova, perché negheranno anche di fronte all'evidenza che ci siano differenze, dicono che le loro Bibbie siano uguali alle altre. È inutile addirittura usare l'interlineare per vedere che le Bibbie dei cattolici e dei protestanti, e anche quella concordata, sono tutto sommato corrette. Non ci sono nemmeno grandi differenze tra di esse, mentre la loro è completamente forzata. Quindi ho dovuto cambiare strategia, mi sono appuntato dei passi biblici che persino nella loro traduzione non lascerebbero dubbi, anche in questo caso però c'è una questione pratica. Mettendo insieme tutto il materiale vengono fuori molte pagine. Ovviamente non posso andare in giro con tutta questa roba. Se devo vedermi con un testimone di Geova mi porto tutte le pagine apposta, ma se dovessi incontrarne uno per strada per caso allora come comportarsi? Per questo mi sono sforzato di ricordare a memoria alcuni riferimenti biblici. Io personalmente sono riuscito a ricordare questi versetti, anche se ce ne sarebbero molti di più. Ripeto che sono quelli che sono riuscito a ricordare io, magari voi potreste riuscire a ricordarne altri. 1 Corinthians 12 2 4. In realtà basterebbe ricordare solo il numero 12, perché il passo ovviamente si trova all'inizio. Il 12 è il numero degli apostoli. Per questo sono riuscito a memorizzarlo. È il passo in cui Paolo dice di essere stato rapito in paradiso, ignorando se egli ci fosse stato con il corpo o senza il corpo, cioè solo in spirito. Questo è difficile da spiegare se loro credono che lo spirito individuale non esiste e quindi lo spirito, che non è l'anima, secondo la Bibbia, non sopravvivrebbe dopo la morte. E non solo, secondo quel passo il paradiso non è la terra, ma è in cielo, ed esiste già, non sarà creato dopo il giudizio finale. Giuda 1 4. In realtà è una lettera breve e un solo capitolo, è facile trovare i passi interessati. In questo versetto viene detto che il Signore è uno solo, cioè, Gesù, non ci sono due signori, cioè sia Dio che Gesù. Più avanti la lettera dice che l'arcangelo Michele disse a Satana ti maledico il Signore. Secondo i TDG, Michele e Gesù sono la stessa persona. Se il Signore è uno solo, ed è Gesù, come può Michele dire a se stesso di maledire qualcuno, perché nel passo viene detto che lui non se la sentiva di maledire il diavolo, per questo adesso ti maledico il Signore. Ovviamente loro negheranno l'evidenza, ma potrebbe far scattare qualcosa nella testa di qualcuno di loro. Un altro passo che sono riuscito ad imparare facilmente a memoria è stato Apocalisse 21, tutto il capitolo. In esso viene demolita completamente l'idea seconda cui coloro che verrebbero salvati vivrebbero per sempre su una terra paradisiaca dopo il giudizio universale. Lì viene detto chiaramente che la terra e il cielo verranno distrutti e che Dio farà nuova ogni cosa, e al posto della terra ci sarà la città celeste, dove i giusti, resuscitati con dei corpi simili a quelli degli angeli, vivranno per sempre con Dio. Quindi non è vero che si vivrà per sempre su una terra paradisiaca, con un corpo umano, che però non può ammalarsi, invecchiare o morire. E nemmeno è vero che, alcuni vivranno in cielo con Dio e tutti gli altri invece sulla terra senza mai vedere Dio. Infine potrebbe essere facile da ricordare Ebrei capitolo 1, tutto il capitolo, dove viene detto chiaramente che Gesù non è un angelo, è superiore agli angeli. E Dio stesso chiama suo figlio Dio, ma la loro traduzione è manipolata, potrebbero non capire. Ma dovrebbe essere chiaro almeno il fatto che quel passo nega chiaramente che Gesù sia un angelo. Queste sono solo alcune delle citazioni che si possono proporre a un testimone di Geova. Io vi ho proposto quelle che ricordo più facilmente. Oltre queste io sono riuscito anche a memorizzare Esodo 3 e 14, basti ricordare il pi greco. In questo versetto viene detto il nome di Dio per la prima volta. Quello è grossomodo lo stesso significato di Yahweh, il vero nome di Dio. Mentre Geova è una parola che non esiste e non significa nulla. Ma è inutile sprecare fiato con questo. Oggi esiste un'app, che va meglio su Android piuttosto che su iPhone, che è la Bibbia It. Con la quale potete scaricare gratuitamente varie versioni della Bibbia, tra cui le interlineari dal greco all'italiano. In teoria potreste annotarvi qualcuna tra le varie citazioni prese in esame da Giuseppe Longo, non tutte, al massimo un post-it? Che potete portare sempre con voi, perché nella pratica è impossibile portare un giro o un oppone di fogli. E anche se fosse non potrete mai discutere di ognuno di essi con noti di G, anche se potrebbe esservi utile per rispondere alle varie obiezioni. Tra le varie citazioni bibliche che potreste tenere sempre con voi in un piccolo foglio di carta potrebbero essere queste. Filippesi 2, 5, 11. Qui l'Apostolo Paolo dice chiaramente che Gesù è uguale a Dio, ma che non era legato gelosamente alla sua natura divina, per questo lui si abbassò a livello umano. Inoltre viene detto che a Gesù fu dato il nome al di sopra di ogni nome, per cui tutte le fandonie sul perché bisognerebbe usare il nome di Dio, anche se loro lo sbagliano sistematicamente, e sul perché il Padre sarebbe superiore a Gesù. Questo passo biblico spiegherebbe perché in Giovanni 14 e 28 Gesù dice che il Padre è maggiore di lui, cioè Gesù pur essendo di natura divina si è abbassato a livello umano. Anzi, in Ebrei 2, 9, 11 viene anche specificato che Gesù era anche inferiore agli angeli, perlomeno quando era sulla terra. Quindi se loro vogliono credere che Gesù è sempre inferiore al Padre, devono anche rinunciare a credere che Gesù è l'arcangelo Michele. Questo per confermare quanto già detto sulla lettera agli ebrei. Un altro passo biblico che lascia poco spazio a dubbi è Colossesi 2, 9, dove viene detto che in Gesù abita corporalmente la pienezza della divinità, che equivale chiaramente a dire che Gesù è vero uomo e vero Dio. In Giovanni 14, 1, 14 Gesù dice che chi ha visto lui ha visto anche il Padre. Anche se loro potrebbero rispondere dicendo che i figli assomigliano ai Padri. Ma non è detto. Certi figli non assomigliano a nessuno dei genitori. Ma dal passo si capisce chiaramente che il volto di Dio è quello di suo figlio, anche perché Dio in quanto tale non ha un corpo umano, se non quello che aveva Gesù. Ho scoperto che ci sono alcune vecchie pubblicazioni dei testimoni di Geova che sono state ripubblicate sullo site lunga www.org. Una di queste si chiama 1914. La generazione che non passerà, dove si dice che il mondo finirà prima che tutte le persone nate intorno al 1914 sarebbero morte. Oggi sarebbero oltre centenari coloro che sono nati nel 1914. Eppure in Deuteronomio 18 e 21, 22 c'è scritto che il falso profeta si riconosce dal fatto che dice qualcosa che non si avvera, quindi la sua parola non viene da Dio. Per cui se il corpo direttivo dice che nel 1914 ci sarebbe dovuta essere stata la fine del mondo e non è avvenuta, e poi l'ha predetta altre volte. Tra cui in quella pubblicazione, in cui viene detto che quelli del 1914 non sarebbero mai morti. Allora il corpo direttivo è un falso profeta e la sua parola non viene da Dio. Come dicevo prima per un testimone di Geova non è possibile contestare il contenuto dalle loro pubblicazioni. Con questo potreste provare a far capire, almeno i tdg più giovani che le loro pubblicazioni dicono un sacco di cavolate. Un passo cruciale è Luca 10, 7, in cui Gesù dice non andate di casa in casa, eppure loro spendono buona parte della loro vita a citofonare alle case delle persone. Riguardo la questione del paradiso in terra ci sarebbe da menzionare anche 2 Pietro 3, 5, 14 secondo cui i cieli e la terra attuali saranno distrutti. Noi aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra, confermando Apocalisse capitolo 21. Ce ne sarebbero altri, ma questi pochi passi potreste annotarli da qualche parte e portarli sempre con voi, qualora incontraste un tdg per strada o in altre occasioni. Eppure questi passi sarebbero sufficienti a demolire il pensiero geovista, senza fare il confronto con mille Bibbie, senza usare i testi originali, o usare mille pubblicatori.